Buongiorno a tutti, siamo live di nuovo dalla sede bresciana della Scuola Internazionale di Comics. Siamo in collaborazione oggi con la sede di Padova e abbiamo con noi Vittorio Bustaffa che è il nostro coordinatore didattico e docente del corso di illustrazione e come ospite intervisterà Laura Zuccari che è pittrice, illustratrice e fumettista. Adesso ve li presento. Buongiorno a tutti, ciao Laura. Ciao Laura, ciao Marta. Tu sei in diretta da Mumbai in India. Esatto, sì, esatto. Tresti dovuta essere qui con noi per un workshop, però vista la situazione internazionale abbiamo messo in piedi questo live, questa piccola intervista con te. Grazie mille per essere qui. Grazie a voi, grazie a voi. Vi lascio il palco scenico. Grazie Marta. A dopo. Prima di tutto do il benvenuto a Laura Zuccari a questo incontro, ti ringrazio per la tua disponibilità. Grazie a voi. Io rappresento le due anime di due scuole che hanno la stessa linea anche didattica sul fumetto, l'illustrazione, eccetera, che è la scuola di Brescia, la scuola di Brescia dove mi occupo della didattica generale e la scuola di Padova dove mi occupo soprattutto della didattica sull'illustrazione. Tu sei ovviamente un nome ormai conosciutissimo, sei una disegnatrice straordinaria, adesso non per far complimenti, però effettivamente il tuo lavoro ha lasciato ormai un segno indelebile, sia in ambito Bonelli ma anche adesso stai allargando un po' il tuo interesse su tutto. La prima cosa che io ovviamente devo chiederti per forza, anche come appassionato lettore, storico lettore, sia di Ken Parker, di Giulia Bonelliano, eccetera, la tua formazione, cioè tu hai iniziato subito mi pare negli anni 90 con l'incontro con Ivo Milazzo, se non sbaglio, che è un grandissimo maestro. Mi piacerebbe sapere, ecco così, anche già la tua prima impressione su questo e quanto hai influenzato anche sulla tua formazione. Il mio incontro con Berardi Milazzo è venuto a Luca Comics nel 92, portai a loro del materiale che avevo creato un po' da sola, ero appena 20enne, 21enne, quindi disegnavo molto ma non avevo agganci, per cui andai da Vittorio Giardino a chiedergli, a supplicargli di lavorare in studio con lui, ma lui mi indirizzò poi verso Berardi Milazzo e parlò di me a loro due. Per cui io li andai a visitare a Luca Comics con il mio portfoglio e loro mi chiesero di trasferirmi in Liguria. Come assistente, allora c'era il Camparker Magazine, come assistente a Ivo Milazzo insieme a Pasquale Fresenda, Giuseppe Barbati e Bertolotti. Giuseppe Barbati che poi ha fatto anche un piaccio e è purtroppo mancato qualche anno fa. Esatto, i specialisti sul West. Specialisti sul genere particolare. Ho cominciato con Camparker, esatto, ho cominciato con Camparker a lavorare con due grandissimi maestri e ho acquisito, lavorando con loro, sono stati per me una pietra migliare nella mia formazione, sotto tutti i punti di vista. Credo di sì, perché a parte Berardi come grandissimo sceneggiatore, però Milazzo ha questo taglio anche soprattutto cinematografico e di grande sintesi, provi anche della forma su questa. Però il tuo disegno sembrerebbe andare forse su un'altra direzione, il tuo disegno è molto dettagliato, è molto anche studiato in maniera molto approfondita. Ma amo molto, sì. No, no, vai, vai, vai. No, perché conoscendo anche il lavoro che fai con Bonelli su Giulia, eccetera, dove ci sono completamente altre situazioni di ambienti, eccetera, mentre poi guardando il lavoro su Tex si nota anche una passione per il paesaggio che è veramente tutta molto particolare, almeno è quella che ho, è la mia impressione, dimmi se sbaglio e dimmi eventualmente, parlami tu di queste differenze anche che ci sono nel modo di lavorare tra due generi. Ma io ho una grande passione per la pittura, quindi per la paesaggistica e l'illustrazione, cioè non è solamente il fumetto. Per cui quello che ho acquisito lavorando con Milazzo Berardi, cioè il taglio cinematografico, un certo modo di raccontare che ho assorbito, è un certo tipo di tecnica, l'ho mescolata insieme alla mia passione per la pittura e per l'illustrazione. Quindi la pittura e l'illustrazione mi danno una ricchezza nel disegno, invece dalla parte di quello che ho imparato da Berardi e Milazzo è la capacità di raccontare una scena, che poi è questa tecnica precisa la ritrovo anche lavorando con Mauro Boselli. Con Mauro Boselli. Quindi mi piace mescolare, esatto, unire queste cose, non rimanere solo nel raccometto. Ecco, e se posso chiederti quali sono i tuoi pittori di riferimento, visto che magari hai appunto citato esplicitamente il rapporto con la pittura? Se hai qualche punto. Io mi sono innamorato della pittura attraverso la pittura fino ad ottocente russa. Ivan Shiskin, Repin, Iwasowski, tutta quella corrente pittorica, straordinari pittori del paesaggio e anche della figura umana. E quindi poi ho scoperto Andrew Wyatt, che reputo il mio punto di riferimento basilare. E quindi cerco di andare avanti tra la pittura e il fumetto. In questo momento sono abbastanza impegnata col fumetto, quindi la pittura è nella mia mente, ma non riesco a trovare il tempo. Però la pittura è la mia passione sotterranea, ecco. Ah no, ma questo spiega anche la tua... Cioè, si vede che l'impegno che ci hai messo nei paesaggi di Tex e che ci metti, si sente un sapore e una passione diversa. Secondo me anche molti dettagli. Credo anche che sia, forse anche più difficile, credo, da un certo punto di vista come disegnatore. Perché il West poi, a differenza del disegno contemporaneo, ha altre difficoltà. Dimmi tu, ti sei trovata a disegnare a livello così normale come se disegnassi Giulia? Faccio per dire, o hai trovato, soprattutto nel Texone, che mi pare che ci hai impiegato degli anni a farlo? Quindi c'è una differenza. Cioè, ho impiegato quattro anni e mezza perché... Io penso che il Western sia un genere estremamente difficile. Il più difficile magari non saprei, cioè dipende sempre dalla passione anche che hai per un genere o l'altro. Però è comunque un genere non facile perché i cavalli non sono facili, i cappelli in testa da mettere sono difficili. Tutto è irregolare, anche gli abiti devi dare un po' quel sapore di usato, di polveroso. Anche l'inchiostrazione richiede tempo. Quindi è stata un'esperienza difficile, quello sicuramente. E il personaggio Tex è difficile perché ha delle regole da seguire, però in qualche maniera le devi adattare alla tua personalità. Però devi disegnare quello che è Tex, la sua anima. Quindi è una prova difficile per un disegnatore. Allora, non è indifferente perché quindi significa che esistono tanti Tex che hanno un filo conduttore, però per ogni autore. Quindi anche tu hai fatto lo sforzo di andare a cercare il tuo Tex, come dire, in base al... Sì, ed è un lavoro in progress, nel senso che non l'ho ancora trovato, lo sto trovando forse adesso. Però è ancora in progress per quanto mi riguarda. Sono sulla serie regolare, dovrò fare una revisione non indifferente sulle pagine che ho disegnato perché ancora ho dei problemi a fissarlo. È un personaggio difficile. Ma questo è molto interessante a livello di mestiere proprio pratico. Cioè tu, quando a un certo punto ti hanno preso per disegnare il Tex, cioè effettivamente questo può interessare anche i nostri allievi dalle scuole, qual è il meccanismo? Cioè tu cominci a fare delle tavole di prova, ti danno già una sceneggiatura? Come funziona in sostanza il... La parte iniziale di ogni progetto è difficile in sé perché devi entrare dentro a un nuovo mondo e quindi te ne devi impadronire. Aiuta molto fare lo studio dei personaggi e quindi anche guardare molti film. Provare anche a fare degli studi, degli schizzi veloci su alcune riprese cinematografiche. Almeno questa è una cosa che faccio perché mi aiuta a entrare dentro al mondo, soprattutto disegnando i personaggi. I personaggi aiutano. Dopodiché io comincio a disegnare le pagine ma non in chiostro. Cioè mi prendo del tempo anche sulle matite, ne faccio diverse pagine in maniera tale che piano piano mi impadronisco delle ambientazioni dei personaggi. Io faccio fatica all'inizio, ci vuole del tempo. Infatti non riesco mai a dare dei tempi prestabiliti perché devo aspettare quel click nella mia mente che mi fa partire, veramente. Quindi vado avanti, poi torno indietro, vado avanti, torno indietro. Questo è il mio metodo, ma perché sono così? No, ma credo che sia molto indicativo però anche dal mestiere stesso del fumettista. Cioè entrare dentro il mood che devi rappresentare non è semplice perché poi anche la continuità sequenziale esige anche uno sforzo di questo tipo. Interessante che hai dato più rilievo quasi all'aspetto di reference cinematografiche che rispetto magari autori, non so, penso a Villa oppure storici, eccetera. Ma su Tex ho tenuto sotto gli occhi Villa e Ticci. sono per me i miei punti di riferimento. Però cerco sempre di trovare il modo di trasmettere una sequenza cinematografica. Quindi tengo a riferimento il loro Tex nelle proporzioni, nel modo inchiostrale, in maniera tale da dare una certa continuità con un personaggio che comunque è storico. Mettendoci del mio per quanto riguarda tutto l'aspetto narrativo, prettamente cinematografico. Quindi è un bel lavoro. E quindi poi a un certo punto hai fatto queste prove, le mandi al tuo art director e editor di riferimento, Mauro Boselli, giusto? Sì, sì. E lui ti dice, sì, va bene, continua così, cambia questo, cambia l'altro, eccetera. Esattamente, sì. E poi scatta la sceneggiatura, quindi. No, nel mio caso Mauro mi ha scritto la storia e io ho cominciato a disegnarla. Ah, ok. Avevo fatto un'illustrazione a colori per il Tex Color e dopodiché mi hanno chiesto di cominciare il Texone, mi hanno proposto di farlo. Però, devo dire, non è stato facile, ecco. Ah, da quanto ne parli sembra stata veramente un'impresa. Io l'ho visto Doc e poi tra l'altro c'era anche una complessità, secondo me, veramente anche particolare, che era questo gioco di carte. Sì, terribile, il faro, il faro. Che non conoscevo e solo prendendo in mano il Texone ho potuto vedere che esiste questo gioco stranissimo. E hai avuto uno studio, si sente che c'è uno studio anche addirittura nei dettagli, perché poi è complessa anche un po' la storia, no, di questi giocatori. Sì. E com'hai fatto questo? Mi piace molto lavorare con Mauro, perché lui mi dà sempre i giusti riferimenti. Quindi lui è molto esperto di western e mi ha inviato dei video, dei video di giocatori del faro. E quindi io mi sono messa a guardare i video, a cercare un po' anche di capire come questo gioco antichissimo funzionava. Non ha... Ho avuto un barlume di comprensione, ma non saprei. Quindi ho dovuto trovare il modo di rendere il tutto verosimile. Vabbè, ma penso che ci sei riuscita, anche perché ti è stato anche riconosciuto, e vorrei anche dirlo, perché i premi va bene, però tu sei stata considerata miglior disegnatrice per questo texone a Lucca l'anno scorso. Quindi insomma la resa c'è stata, però vedo che dietro c'è veramente un grandissimo lavoro di scavo e anche il tuo retaggio con la pittura e con... quindi il tuo amore per il paesaggio, per la pittura, l'insegnamento di Ivo Milazzo, il cinema. Ma Berardi anche. Io ho imparato molto, ho imparato molto a livello narrativo da loro due, che considero due maestri assoluti, insieme a Mauro ovviamente. Sì, sì, sì. Vabbè, certo, sono delle colonne portanti di casa da... cioè proprio Bonelli e non solo anche. Poi hai lavorato anche e lavori anche tutt'oggi nel mercato francese. La prima esperienza l'hai avuta con Sylviane Corgià, no? Sì. Con le spade di vetro che comunque ti hanno portato anche delle soddisfazioni, se non sbaglio. Sì, assolutamente. Assolutamente. Quali sono state le differenze tra il mercato italiano e il mercato francese? Il mercato francese ti dà un'assoluta libertà. Diciamo, sei molto libero sia di costruirti il tuo universo sia anche di adattare la tua tecnica narrativa. Quindi mi hanno lasciato una grande libertà in questo che all'inizio mi ha terrorizzato perché quando non sei più supportato in ogni dettaglio è in qualche maniera come se tu dovessi volare un po' da solo. Quindi è tutta tua responsabilità. Quindi insomma all'inizio ero abbastanza terrorizzata, sono passati dei mesi prima di trovarmi un po', anzi penso anche degli anni, non è stata una cosa immediata. Però è stata la mia palestra a livello del colore. Ho potuto sperimentare il colore e quindi trovare un mio modo di colorare le pagine che adesso sto portando avanti e sviluppando su questi due nuovi progetti che sto facendo, realizzando. Ottimo, molto interessante. Io so anche che tu hai una misura del formato della gabbia delle tavole un po' insolita perché le fai piuttosto grandi. Questa cosa mi interessa. Non è che per caso hai qualcosina nel tuo studio oppure anche in lavorazione? Così possiamo... Sì, in lavorazione ho una pagina per un progetto per Glen A insieme a Simona Mogavino che è la scrittrice italiana di questa storia di fantascienza. Il formato è grande, è in lavorazione. Questa è una storia di fantascienza, si chiama Tellus, ogni tanto posto insieme alla scrittrice dei post per pubblicizzare. Insomma, dovrebbe essere pubblicata al prossimo anno per Glen A. Per Glen A. Invece per Daniel Maghen sto lavorando a una storia sull'antica India con uno sceneggiatore indiano su Deep Menon ed è uno dei motivi per cui sono qua in India perché mi servono molti riferimenti storici e quindi questa è una delle pagine. Accidente. Sì, 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 sì. Sembra anche che ci sia un grande riferimento all'iconografia indiana tra l'altro. Sì, è un periodo dell'India durante l'invasione di Alessandro il Grande. Ah, quindi siamo a un livello veramente capitale vorrei dire. perché... Sì, è molto difficile perché le decorazioni, le armature le strutture architettoniche sono estremamente complesse però in quel periodo c'era un certo tipo di modo di costruire i palazzi le case, le abitazioni e c'era un certo tipo di costume poi negli anni l'India è cambiata con l'invasione degli Arabi è diventata un'altra cosa quindi diciamo che lui ha una conoscenza delle varie fasi storiche dell'India e anche della mitologia e quindi è riuscito a intrecciare è molto interessante, sì. Ma comunque entrambi i progetti sono molto interessanti su temi diversi ovviamente. Ah, molto interessante, no? Mi piace quest'ultima cosa sull'India perché ti trovi il mondo occidentale diciamo proprio alessandrino con il mondo indiano che erano due contrasti formidali quindi hai due modi anche lì di fare incontrare la documentazione e tutto il resto. Ma tornando al formato della tua tavola, no? Sì. Tu ovviamente ti senti a tuo agio per quale ragione? Perché ti trovi? Mi trovo a mio agio per un problema anche di vista devo dire non riesco a lavorare su formati piccoli perché ho problemi di vista quindi questa è la ragione fondamentale e poi comunque sulla pittura lavoro su formati molto grandi quindi mi trovo proprio a mio agio perché quando devo scendere magari nel dettaglio riesco a lavorare meglio e poi bisogna sempre considerare anche l'ingombro dei balloon che ti toglie spazio quindi tutto diventa molto piccolo quindi preferisco lavorare in grande anche perché... Si è perso un attimo con il collegamento scusami se puoi ripetere l'ultima frase perché c'è stato... No, la ragione principale è un problema di vista quindi mi stanco facilmente mi stanco facilmente Ho capito Senti, ma per curiosità che tipo di carta usi? Cioè andiamo sul tecnico Allora la Arche Arche satinata 300 grammi Ah, 100% Però qui in India ho scoperto anche altre altre marche francesi tra l'altro che non conoscevo che sono... lavoro anche su Canson e su Lana Lana è un'altra è un'altra marca francese sempre satinato 300 grammi 76 cm per 56 Ah però Sì, 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 sì Ho fatto diversi esperimenti questa è la migliore A livello di materia pittorica usi acquerelli oppure fai delle tecniche miste tecniche trasparenti? Sì, uso i Liquitex oppure gli acrilici della Winsor & Newton però alterno tra il trasparente e il solido solidifico il colore dipende dagli effetti dipende dagli effetti che voglio ottenere Ah, quindi Sì e con l'inchiostrazione normale tradizionale Quindi prima inchiostri comunque poi i colori Sì Ah, quindi fai un minimo di inchiostrature eccetera Faccio un minimo di inchiostrazione per poter pulire il foglio Dopodiché coloro ci sono diverse fasi di colore nel senso diversi livelli quando ho superato un certo numero di livelli inchiostro nuovamente e quindi il colore riperde forza perché il problema è che il colore mangia un po' l'inchiostrazione quindi dopo inchiostro di nuovo e do le ultime fasi di lavorazione del colore è un po' macchinoso No, no è macchinoso ma anche questo ribadisce il fatto che nel mestiere fumettista c'è sempre un tragitto anche sperimentale Sì assolutamente nella quale uno personalizza il proprio modo di è inevitabile anche la domanda tu cosa ne pensi per uno che volesse iniziare a fare fumetti no anche così da un punto di vista quali sono le prime cose che secondo te dovrebbe affrontare e anche come procedere eventualmente Ma io a chi inizia consiglio sempre di fare tantissima coppia dal vero cioè di imparare a disegnare dal vero le persone che si muovono i gesti gli oggetti impadronirsi della prospettiva queste sono le basi del disegno e poi tanto cinema tanto cinema anche guardare gli autori perché è importante avere la conoscenza anche storica soprattutto in un certo periodo negli anni 60 50 60 soprattutto quegli americani come Alex Raymond Alex Todd tutti gli illustratori di quel periodo erano dei straordinari disegnatori ma anche raccontatori cioè raccontavano quindi diciamo il disegno deve essere solido cioè copiare e basta ti mantiene sempre in una in modo un po' superficiale in superficie ma bisogna andare a fondo nel disegno capire e imparare a disegnare realmente inchiostrare rendere i materiali rendere le cose come sono poi dopo successivamente viene fuori la propria personalità ma non è una cosa che devi cercare forzando quella è una cosa che ognuno di noi ha una personalità e quindi attraverso la tecnica la personalità poi esce però esce in maniera naturale cioè emerge da sé sempre se tu però lavori perché molto da come tu mi dici io non so che cos'altro fai perché sembra che disegni dalla mattina alla sera perché tra le prove la documentazione il cinema eccetera ce l'hai del tempo libero cioè riesci diciamo che ho molto dedicato la mia vita a questo mestiere perché amo molto questo mestiere quindi sì ho il tempo libero però per arrivare a certi livelli ci vuole una grande dedizione il talento non basta il talento non basta e quindi io credo relativamente al talento non so se sei d'accordo ma secondo me come si dice l'olio di gomito il lavoro costante soprattutto del fumettista che è un comunicatore se raccontare così quindi anche le abitudini le posizioni si parlava del western proprio perché ha tutta una modalità anche di gestualità diversa rispetto assolutamente è una grammatica quindi devi essere costantemente dentro e quindi ci vuole anche la capacità di focalizzarsi molto sugli obiettivi diciamo che nell'arco della mia carriera ho dovuto modificare la mia vita a questo mestiere è triste ma è anche bello insomma però cioè se quando avevo 25 anni potevo uscire alla sera bere o mangiare un po' di più il giorno dopo partire lavorare adesso non lo posso più fare dopo gli anni passano e la disciplina deve rimanere sempre quella costante e quindi devi adattare un po' anche la tua vita ma lo devi fare poi anche con gioia nel senso non deve essere una tortura o sacrificio insomma io poi mi diverto mi diverto è quella la cosa fondamentale che ti fa portare avanti nel tempo penso che per te il disegno sarà una costante presso che eterna voglio dire finché ci vedo finché ci vedo ci mancherebbe ti auguro anzi con quello che produci ce lo auguriamo tutti che tu possa produrre sempre fare delle cose meravigliose grazie ormai ormai si è anche diventato un punto di riferimento didattico perché si ah si eh beh insomma nel fumetto nel fumetto si usano dalle tue tavole per far capire come si fanno le cose grazie ma soprattutto no ma soprattutto ho notato eh proprio certi dettagli che tu hai che altri che altri fumettisti invece puntano di più non so sul gesto o su altre cose ma tu hai questa particolarità che proprio forse deriva dalla tua matrice pittorica illustrativa che fa del fumetto qualcosa in cui è un piacere anche vedere certi dettagli anche da un punto di vista di inchiostratura di piccole piccole situazioni e quindi inevitabilmente poi eh però è interessante quello che trovo interessante quando citi Toth ad esempio ed è particolare perché sono e sono tutti come Milaz e così che hanno una sintesi grafica particolare ma tu hai mantenuto la tua natura questa è la cosa bella cioè hai mantenuto una una tua originalità sì perché eh sento molto l'inclinazione verso la pittura cioè è proprio il piacere di rappresentare un paesaggio un qualsiasi cioè amo questa questo aspetto con la pittura purtroppo non riesco a viverci se ci vivessi farei dipingerei e basta perché la la pittura è è il cinema magari troverai il modo di però al momento il fumetto è la cosa che mi fa coniugare le due cose la passione per il cinema e per la pittura e quindi vado avanti così no e quindi confermi una cosa che è un po' nella filosofia della nostra scuola di iniziare prima a impastare le mani e poi anche eventualmente andare nella perfezione del digitale eccetera ah sì 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 assolutamente come formazione non si può secondo me passare direttamente al digitale è perdere tutta una serie di gradini cioè di più che altro di portare consapevolezza nel tuo lavoro cioè come si formano i colori proprio sul piatto con i pennelli l'uso l'uso dei dei pennelli ci sono vari tipi di pennelli quindi puoi ottenere diversi tipi di effetti cioè proprio l'esperienza fisica è importante perché la porti su un qualcosa che è virtuale di cui tu non senti né i materiali né anche la vibrazione del pennello nella tua mano quando entri in contatto con un certo tipo di carta se questa cosa non viene memorizzata internamente non la puoi portare nel digitale quindi puoi diventare puoi diventare un bravo artigiano puoi diventare un bravo artigiano non dico che però ti manca tutta una una parte diciamo di formazione questo è il mio punto di vista magari molti non saranno d'accordo ma molti non saranno d'accordo noi a Padova e a Brescia in realtà siamo proprio su questa linea cioè noi pensiamo che sia necessaria una sperimentazione pittorica che ci sia proprio questo contatto come dici tu con la materia con le texture proprio muovere il pennello per creare una pianta per esempio è molto diverso che che farlo con un pennello digitale che poi il pennello digitale è sempre la penna ottica che ha appunto una sua influenza il problema è che lavorando solo in digitale è come se il cervello rimanesse due di due dimensioni quando tu lavori con la materia reale crei nella tua mente una specie di profondità quindi quando tu vai a colorare lavori su olio su tela quindi devi tirare fuori le cose è come se tu le scolpissi in una superficie che è piana e quindi nella mente tu crei il 3D lavorando veramente sulla materia iniziare subito nel digitale io ho provato usare il digitale ho provato tre mesi ho seguito dei tutorial ma lo trovo per me lo trovo estremamente limitante è molto comodo quando devi colorare delle pagine e devi spedire i file magari l'editore non è contento di un colore basta fare clic e diventa un altro colore sicuramente ha una grande comodità e un risparmio di tempo però non lo so ecco sì sì no ma per noi che la formazione è molto importante insomma io capisco e devo dire che questa cosa della profondità mi ha molto colpito quello che hai detto perché lo trovo veramente un discorso anche profondo da un certo punto di vista perché questa profondità non è solo tecnica ma è anche una modalità emotiva dove uno cerca proprio di collegarsi al soggetto perché quando si disegna ci si identifica in qualche modo assolutamente è una crescita spirituale devo dire questo è un mestiere che ti porta a molta solitudine quindi o tu impazzisci oppure trovi una dimensione spirituale una connessione con te stesso è una crescita interiore più cresci interiormente più sul lavoro questa cosa si vede quindi viene anche dalle esperienze di vita che hai questo è vero parli di solitudine però c'è anche l'aspetto del lavoro di equip poi che forse aiuta in realtà paradossalmente se uno si abitua meglio alla propria solitudine forse in questo ambito poi si relaziona assolutamente assolutamente più stai bene con te stesso più stai bene con gli altri e questa è una regola infatti all'inizio io odiavo questo mestiere perché mi portava tanta solitudine venendo da anche una l'Italia se sei solo sei un poveretto insomma tutti ti dirò povero è solo sì quindi nella mia mente c'era questa condanna pazzesca nella mia vita una totale solitudine poi ovviamente ho cominciato anche a cercare di capire fino a che punto questa solitudine potesse essere usata a mio vantaggio e quindi ho fatto una mia ricerca personale nel momento in cui tu entri in contatto con te stesso e stai bene da solo ma non ti senti isolato sei comunque connesso dopo il rapporto con gli altri è più facile perché sei rilassato sostanzialmente quello ecco ci hai fatto sentire un po' di aria anche di India perché queste queste riflessioni hanno che è di spirituale anche importante ma lo diciamo sempre anche agli allievi così disegnare non è esattamente come fare una sedia cioè c'è un aspetto emotivo e psicologico che è molto forte e non si può non tenere in considerazione anche nel ma vivendo qua devo dire sono qua da quasi quattro mesi e sto imparando tantissimo da questo punto cioè sto rifinendo delle cose che avevo già avevo già cominciato a capire ma la cultura qua ti porta a un certo tipo di di apertura in questo senso e anche di accettazione io amo l'India per questo aspetto spirituale ma queste sono anche credo alla luce delle rivali e rivoluzioni sociali che stanno avvenendo adesso soprattutto negli Stati Uniti così queste parole che tu dici sono molto attuali cioè sono aspetti che e quindi anche da questo punto di vista il mestiere del fumettista ha questi lati umani personali che credo veramente notevoli al di là poi anche del lavoro ma non da ultimo bisogna pure immettersi nel mondo del lavoro certo un po' concludendo anche il nostro bellissimo incontro volevo chiederti oggi con queste trasformazioni anche di che ormai sono cadute le barriere cioè attraverso il computer cosa diresti come come ci si presenta oggi un fumettista giovane tu andavi magari con la tua cartella appunto sei andata da Vittorio Giardino eccetera ma oggi un fumettista come fa? io farai uguale uguale tu faresti una cartella con dentro le tue tavole e vai assolutamente cioè questo perché è il modo più umano più naturale più onesto di presentarsi perché il supporto tecnologico ti permette anche di fare delle cose che altrimenti non saresti in grado di fare cioè quando tu lavori solo su carta e non hai nessun tipo di programma che ti aiuta a costruire le prospettive che ti aiuta a creare una certa texture ma lo devi fare tu con le tue mani quindi tu fai vedere quello che sei se sai anche lavorare in digitale è un bene aggiunto io se stessi fare qualcosa in digitale non sarebbe male ecco però diciamo che consiglierei un nuovo disegnato un disegnatore emergente se possibile di fare tutte e due ma soprattutto di lavorare manualmente e poi ne può anche sperimentali in digitale certo ci mancherebbe altro soprattutto poi anche se deve fare illustrazioni sai non so anche per pubblicità a volte un fumettista non inizia solo a lavorare col fumetto magari inizia anche un po' come illustratore così lì in questi casi però molto interessante quello che dici ribadisce ribadisce il concetto e la verità emergente cioè quindi dici fai vedere prima chi sei veramente e poi aggiungici tutti le varie facilità così insomma ti facilita un po' la vita l'aspetto tecnologico io a livello più esteso vedo la tecnologia a servizio dell'uomo non il contrario cioè ci deve essere sempre un approccio umano a tutto cioè noi viviamo in un'era io spero che questo covid abbia fatto entrare certi concetti dentro le persone vedo un'ipertecnologizzazione di tutto cioè il contatto è troppo virtuale i social network non sono sempre usati in una maniera giusta c'è troppa tecnologia e si sta perdendo l'aspetto umano ma la tecnologia deve essere a servizio dell'uomo non il contrario ci deve essere sempre un lato umano che deve essere rispettato quindi un artista nel futuro deve avere questa parte umana che è anche lavorare a mano lavorare sporcandosi le mani e quindi crescendo anche interiormente soffrendo sacrificio questi valori devono mantenere devono essere mantenuti più la capacità di usare la tecnologia quindi anche la preparazione artistica nell'uso della tecnologia ma non deve essere sostituita la parte umana io la penso così sono perfettamente d'accordo penso anche di parlare a nome delle sedi delle scuole insomma ma questa è proprio la nostra linea e quindi sono anche molto contento di poterti appena sarà possibile anche dai tuoi impegni tra l'India il covid eccetera ti rinnovo l'invito per essere presente con noi con qualche workshop a Brescia e a Padova quando sarà possibile ci ricontatteremo e sarà un vero piacere sicuramente un grande valore aggiunto per i nostri allievi c'è proprio possono veramente poi questa connessione tra pittura e fumetto è veramente estremamente affascinante a questo punto io veramente Laura ti ringrazio infinitamente del bellissimo incontro piacevole e anche importante su quanto hai detto ti auguro anche quindi di proseguire al meglio il tuo lavoro in India e aspettiamo le tue pubblicazioni poi appunto a breve insomma se il prossimo anno dovrebbe uscire già qualcosa prossimo anno sì va bene io ti riporto solo i saluti di Dario Viotti che ha scritto nei commenti di salutarti è uno dei nostri docenti qui alla sede di Brescia bene salutatemelo molto perfetto perfetto ottimo grazie mille Laura grazie per essere stata con noi grazie Laura davvero e buoni giorni grazie a risentirci ciao Laura va bene ciao 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 benissimo Vittorio grazie per stamattina è stato molto interessante credo che anche i nostri studenti siano stati detti dei concetti molto importanti le auguro veramente scusami ti interrompo perché Laura è veramente ha una ha una forza è una disciplina incredibile che io spero veramente che possa venire da noi a scuola a Padova a Brescia per cercare di comunicare anche questi aspetti umani legati al disegno perché lo si vede nel suo disegno ha una forza appunto come dicevo nel dettaglio che va veramente che va veramente come dire studiata è approfondita è un esempio insomma quindi mi auguro che gli allievi ci possano seguire e la possano incontrare anche di persona me lo auguro veramente ce la faremo sicuramente benissimo noi ci vediamo venerdì prossimo abbiamo un altro incontro sempre con un ospite esterno Valentina De Poli che è stata direttrice di Topolino e saremo sempre con te giusto intervisterai tu certamente è tutto direi è tutto e ti ringrazio Marta ti ringrazio le due sedi che hanno permesso anche l'incontro con Laura e pertanto quindi passo e chiudo anch'io e vi saluto a venerdì prossimo ciao